allora rieccoci bentornati buongiorno un giorgio allora adesso vi racconto una roba e poi vi faccio vedere una cosa mi hanno contattato quelli di endix che può darsi voi non sapete neanche cos'è e mi hanno detto fai vedere questo la demo di endix perché poi se tu la fai vedere entro aprile noi ti diamo 10 biglietti di endix da regalare la tua chat dei biglietti di endix cosa stiamo parlando allora adesso vi dico di cosa stiamo parlando poi lo vediamo assieme e poi ci facciamo un ragionamento assieme anche perché purtroppo o per fortuna il contenuto di quello che vi farò vedere non è così interessante come la teoria all'endix è una convention di videogiochi quindi immaginate la milano games week ok piuttosto che qualunque altra convention di videogiochi vi venga in mente ideata e prodotta e eccetera eccetera dagli sviluppatori da degli sviluppatori indie ok che è una convention virtuale attenzione cosa vuol dire che una convention virtuale che anziché andare fisicamente voi alla convention voi lanciate la convention sul vostro pc e andate alla convention in maniera vicaria ok cioè voi fisicamente andate da sola parte ma la convention digitale ed è uno spazio digitale nel quale andare adesso ve la faccio vedere poi parliamo di cos'è come funziona se questa cosa ha senso oppure no eccetera eccetera allora io spero solo facciamo una cosa bella stai qua un secondo perché io spero perché questo non è e quindi dov'è domanda dov'è ah mi sono ricordato dov'è ok fermi tutti se ci arrivi ci vuole un momento e ci arriviamo perché ci sono vari metodi per scaricare questa convention ci sono varie strade mettiamola così non mi ricordavo quale avevo scelto io e come perché non è su steam è un prodotto a parte ok la cui demo è gratuita potete provarla anche voi se ci tenete oppure potete aspettare che ci sia la convention la convention sarà adesso vi dico anche che giorni se non mi ricordo male a partire da maggio esatto se non però non trovo dove sia scritto ci sarà scritto dentro è un evento di tre giorni il qui biglietto costa 8 euro se lo comprate adesso costa 5 euro ma no non volevo fare ho fatto un casino ho fatto un casino su pazienza abbiate pazienza non pensavo di farvelo vedere oggi vi dirò la verità non era oggi il giorno in cui avevo programmato questa cosa però siccome è più che altro una versione c'è una cosa che volevo chiacchiare un momento visto che abbiamo finito presto il gioco volevo parlarne oggi coglievo l'occasione solo che adesso ok mi ha fermato questo se adesso adesso un segno di vita i co sta dando un segno di vita ottima cosa ok ci sono riuscito sono riuscito ad arrivarci adesso in teoria io faccio così faccio così e lui come per magia come per magia adesso c'è una rotellina che gira è stato più facile la prima volta quando l'ho installato ho fatto tutto filato adesso che devo andare a recuperare dove era mi sono incasinato vedo che sta partendo attenzione che ne so io allora andiamo a recuperare la mia password di endix no 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 sono pronto era solo che non era non ero preparato per farlo stasera capito quindi c'è dei tempi che normalmente voi non vedete perché sono quelli che io faccio prima della live capite c'è un trucco si ricordati ok vabbè ci si iscrive si paga il biglietto e ci si iscrive perfetto c'è un bell'avatar vi potete fare il vostro bell'avatar col quale entrare in questo spazio virtuale ok tutta una serie di robe più o meno utili la mappa non c'è ancora e poi potete entrare dentro endix controlla che il mio biglietto sia valido ti giuro che è valido me l'hai mandato tu ok siamo arrivati a endix che vi avviso subito che soprattutto finché non ha caricato un po' di asset scatterà leggermente poi si calma giuro ok allora questa qua è la demo di endix che ci mette dentro un convention center ok e ci fa e simula l'esperienza della convention più che può ok con gli asset limitati a lui ovviamente ma il concetto è quello nella quale teoricamente c'è anche un signore vedi qua c'è un signore vero questo signore qua è un signore vero ciao signore vero qui sono alla convention ci sono con un'altra persona salve non fa più una emote fa una ogni tanto teoricamente io potrei anche scrivere credo che proximate oh vedi che c'è anche qua hi vediamo come funziona l'ho provato io questo e qua teoricamente dovrebbe farlo vedere soltanto a chi mi è andato via perfetto potremmo darci appuntamenti lì si però è aperta solo tre giorni però si possiamo anche andare a vedere tutti assieme capito come la convention normale ci sono degli ampi spazi in teoria per tenere le persone che vogliono andare a fare questa cosa qui e questo essenzialmente è quello che ti permette di fare ok ci sono due tipi di tra virgolette di attività qua ci sono anche i png questo ve lo dico ci sono anche i png che parlano che ti spiega ci sono le demo no non ci sono ancora tutte le feature i trailer dei giochi che potete vedere come nella vita reale eccetera vi fermateli guardate storti lontani le animazioni sono quelle che sono attenzione perché c'è la fila? perché siamo in i pc vieni pizzeri in fila voi col biglietto invece entrate allora questo qua è il convention center ok al di fuori farvi vedere la parte attorno che è abbastanza inutile faccio vedere prima la parte attorno che suppongo sia la parte in cui si può fare quello che diceva prima cioè socializzare ok si può questo è un signore buggato dentro il pavimento che ti dice se vedi dei bug avvisaci ve lo dico subito caso mai vi chiedeste perché c'è un signore buggato io suppongo che questa cosa qui un giorno farà qualcosa adesso non fa niente però ci si può trovare la panchina no? facciamo le foto ok adesso andiamo a vedere la convention tutte le cose futuristiche che non costano niente ok essenzialmente a parte questo signore che ci vuole spiegare come funziona la convention come funziona tutta la baracca tanto per capirci e il fatto che le zone sono transennate perché è solo la demo quassù ci sono vari piani di convention dove se volete potete comprare gli ad potete comprare la pubblicità ognuno di questi di questi posti ok in teoria è qua non si può andare perché vedete che sono di rossi in teoria però è una demo voi potete entrare dentro il boot della demo premere e premere e press e to enter no è entrato e lui voi adesso non lo vedrete perché si sovrappone con la finestra vediamo se cambia focus per miracolo OBS ma dubito ci sta pensando ok ha dato un segno di vita alla geforce voi adesso non potete vederlo perché OBS non switcha il focus un po' anche giustamente per lui ma mi ha lanciato la demo del gioco che sono andato a scegliere ok dovrei fare di trighi per farvelo vedere non ve lo farò vedere semplicemente perché a parte che l'ho lanciato due volte perché soffesso io ok perché un gioco che abbiamo giocato è finito perché è The Shore l'abbiamo appena giocato è appena finito e quindi tu teoricamente nella versione completa ti puoi provare tutte le demo di giochi che ti ispirano ok ci sono vari piani di conveni di vari piani di 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 cosi che qua adesso sono chiusi perché è una demo e ce n'è uno e già ringrazio che ce n'è uno e qua non si può andare infatti ti dice questa è la fine della demo grazie se volete potete anche andare sul sito e mettere il codice quelli che vedete lì ci sono 500 biglietti gratis i primi che arrivano se li portano a casa ok e qua giù ci sarebbero altri così in più la seconda feature di di questa convention è che si può da quello che ho capito lo diceva fuori ci sono delle cose per cui ci si può mettere alla prova con gli altri giocatori fare delle sfide di un qualche tipo c'è anche il signore che dice nessuno non porta le mascherine sei birra qua siamo covid free fidatevi sulla parola perfetto basta questa è la cosa che volevo farvi vedere capite che non potevo fare una live su questa cosa qui ve la faccio vedere volentieri per dirvi che esiste e perché secondo me può essere un progetto anche interessante ma questo è il punto ok diceva c'era nel cartello lì sotto andiamo a vedere il cartello già che siamo ancora qui e vi dico cosa manca bisogna fare tante cose ci sono dei mini games dove puoi mettere a prova le tue skill e sfidare i content creators che sommetto che non vedete l'ora di sfidarmi a non so cosa pacman credo poi detto questo non so assolutamente dirvi quanto di tutta questa roba qui aumenterà ok ok so dirvi che ci dovrebbero essere una trentina di demo provabili perché mi sembra di aver letto da qualche parte che si parlava di una trentina di demo provabili di per contro questo ve lo dico subito il client è piuttosto grossino cioè questa roba che state vedendo adesso sono 11 giga che comprende anche tutte le demo ok suppongo che ci sia la possibilità di scaricare solo la convention e poi di scaricare solo le demo puoi provare però contate che sul vostro disc potrebbe essere più pesante di quello che pensate ok allora possiamo salutare Endix cosa ne pensate qual è la vostra opinione sull'idea di andare a una convention virtuale perché non è il festival delle demo di steam dove ognuno si può le demo a casa sua questi cazzi hanno aggiunto il fatto che è uno spazio condiviso ok e quindi davvero puoi andarci con gli amici domani pomeriggio andiamo tutti alla convention e tutti si collegano dal loro pc e vai a provarti la convention con gli amici secondo me l'idea sotto è carina cioè può essere effettivamente una cosa carina un po' oltre il festival delle demo di steam che non ha alcuna interazione sociale tra partecipanti vedo il grosso difetto del fatto che sono che buonasera blgmq ha il grosso difetto che devi scaricarti tutte ste demo e aspettare che si scarichi ne sono 11 giga solo questo capito e quello è uno svantaggio però è anche vero che la convention a Cincinnati non ci sarei andato io ok secondo me sarà come dire non sarà perfetta alla prima edizione però potrebbe diventare col tempo una cosa interessante questa è la mia opinione visto che dovrebbero darmi biglietto e dovrei dare 10 biglietti in giro la chat io un giro ce lo faccio per vedere com'è tutta completa quanta gente c'è eccetera eccetera però è un non lo so mi è sembrato un'idea che è un passo verso il futuro la domanda è voi ci andreste volentieri ad una convention virtuale con gli amici o preferite il metodo steam mi scarico la demo me la provo e va vangulo esatto a pong enigmista esattamente a pong cioè secondo me gli ultimi anni hanno generato la necessità di creare degli spazi virtuali per un po' tutto e questo è un esperimento in quella direzione il grosso problema secondo me è che c'è tanta gente che odia la roba tutta virtuale e c'è altrettanta gente che dice invece no figata non mi devo muovere da casa sto in pigiama vado alla convention sul lavoro a me sta capitando in questo periodo di trovare gente che dice bellissimo facciamo tutte le riunie virtuali non vediamoci mai più e invece gente che dice no vabbè però dobbiamo vederci per cosa ma no per vederci probabilmente proverei non so quanti miei amici mi seguirebbero quella domanda perché l'idea di creare uno spazio multiplayer tanto per capirci fa sì che magari chi è entusiasta trascini gli amici io sono la vecchia mia che preferisco le cose dal vivo piuttosto che quelle virtuali io dipende da che cosa le riunioni di lavoro ad esempio le preferisco virtuali se devo limonare invece preferisco essere dal vivo io non provo neanche la demo di Steam quindi mi è difficile rispondere se vuoi ti dico che i festival del cinema online sono comodi per certi motivi ma per me non posso sostituire la presenza l'anno virtuale a Berlino è stato triste tornare a fare un festival nei cinema quest'anno è stato bellissimo sono stati i tamponi le mascherine e tutto quanto allora c'è la allora è interessante quindi mi interessa questo ragionamento no io sono uno che per un sacco di tempo non è andato ha detto mi piacerebbe andare a fare i streaming festival e poi i costi l'hanno sempre fermato costi di tempo e di denaro l'hanno sempre fermato perché non ho la settimana per andare non ho cioè dover pagare l'albergo insomma tutta una serie di ragionamenti mi hanno sempre impedito di andare da quando c'è online l'uomo più felice del mondo vado mi compro il biglietto mi guardo tutti i film mi godo il festival mi vedo i film e sono contento certo è che un'esperienza diversa io non ci tengo all'esperienza cinema e non ci tengo alla vacanza del festival ok che secondo me sono i due i due grossi e poi non ci tengo a rivedere gli amici del festival sono le tre cose no che 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 cambiano i grossi no uno è l'esperienza cinema due il fatto che ti prendi una settimana per andare a fare quello e tutto il resto lo lasci a casa e se sei un amante del cinema è una vacanza anche se vai a lavorare è una semi vacanza e tre che magari uno ha amici in tutto il mondo e dici ah finalmente li rivedo eccetera eccetera non per essere per tanto ma abbiamo organizzato con amici al comicon per incontrarci a me ricorda second life dipende anche dal tipo di interazione possibile con gli altri partecipanti si considera che rispetto a second life questa è una cosa molto focalizzata cioè deve fare due cose permette di incontrarti virtualmente e farti vedere demo vi ho anche detto i costi 8 euro il biglietto full price 5 quello in prevendita quindi contate anche che il costo per partecipare è la metà di una convention normale io che non amo molti luoghi molto affollati sono attratto dall'idea poi anche nel film festival ho avuto una bella esperienza virtuale che dal vivo probabilmente non avrei mai potuto fare poi chiaramente è la stessa cosa ma è stata un'esperienza positiva tu potendo scegliere andresti al Far East Film Festival andresti fisicamente o virtualmente perché la mia esperienza è che fisicamente poi non ci vado non metta di un biglietto giornaliero esatto e credo che tra l'altro non sia neanche giornaliero sia tutti i tre giorni secondo me non ha ancora i contenuti perché uno ci vada più di un giorno capiamoci però visto che 30 demo non sono tante ma se è una roba che l'anno prossimo ce ne sono 60 quello dopo ce ne sono 120 improvvisamente ha un senso mi sarebbe anche piaciuto andarci dal vivo anche a me idealmente ma sono garanti non l'avrei mai fatto ok sei nella mia stessa barca caro io ci andrei fisicamente se fosse vicino ma quando non sia la possibilità questa soluzione non è male altro ragionamento secondo me interessante è che la lontananza è un problema per molti allora che invece di videogiochi non ci andrei dal vivo come mai non ci andresti dal vivo caro poi naturalmente siamo anche stati sfortunati perché l'unica demo che c'è è un gioco che abbiamo fatto finito sul canale quindi non ha neanche senso dire vabbè proviamo la demo vi faccio vedere qualcosa cioè non potevo proprio farci una serata su questo su questo index neanche volendo anche perché non vai solo per provare le demo perché le demo le provi gratis cioè secondo me o vai perché ti trovi con gli amici fai i cretini e poi provi qualche demo magari qualcosa di multiplayer no quello può anche essere vince la parte sociale no onestamente non ci ho mai mezzo mondo e quindi vedevo tutti tutta la gente che vedevo una volta all'anno la vedevo lì e poi andavo Lucca perché Lucca era a vacanza il valore di Lucca per me era la vacanza di tre giorni con gli amici maniare assieme bere scherzare quella roba lì e poi sono andato a Milano Games Week perché a un certo punto la chat me l'aveva chiesto se facevo il raduno alla Milano una volta sono andato però anche io non sono un grande amante della convention in sé va bene insomma questa era l'index volevo farvela vedere perché secondo me è interessante sapere che c'è presumibilmente su discoro su telegram e o su telegram regalereò dei biglietti quindi sappiatelo qui casi la parte sociale fa moltissima la parte sociale assolutamente assolutamente sicuramente regalerò dei biglietti appena me li danno non siete timidi tanto sono convinto che ne avanzerò quindi se vi incuriosisce volete provarla volentieri poi magari neri aspetta gli ultimi giorni ma se poi mi avanzano delle chiavi ne diamo anche al tuo fidanzato ma poi uno ci va con due pc uno di fianco all'altro volendo va bene cari amici detto questo io vi ringrazio della compagnia vi ringrazio di aver passato il martedì sera con me noi ci vediamo domani sera con un gioco che non sarà far ho già deciso cosa sarà non ve l'ho ancora detto ed è una sorpresa per tutti questa volta è una sorpresa anche per i sub così perché tanto se lo vedete non capite cos'è e quindi lo scoprite domani assieme a me va bene noi ci vediamo domani